Mi hanno chiesto di intervenire prima, ma non andrò via. Non andrò via, resterò fino a domani, per due motivi. Uno, perché gli attestati del Forsam li voglio consegnare io. Perché, come ho detto più volte, siete il mio orgoglio e l'orgoglio dell'Associazione. Perché tanti di voi, non soltanto Luca, ma tanti ragazzi, tanti amministratori locali, anche grazie al Forsam sono diventati poi sindaci delle loro comunità, sindaci del nostro Paese. Nella mia regione c'è un'invasione, siamo a sette, otto forse adesso, e festeggeremo il Forsam a Giovinazzo, proprio perché è diventato sindaco di Giovinazzo, un ragazzo che viene dal Forsam, e lo festeggeremo tutti insieme. E non andrò via, anche perché un po' il prosecco e un po' lo stacchetto musicale che state mettendo, secondo me, diciamo, mi fa capire che la serata non sarà proprio noiosa, e quindi la volevo passare con voi. Fatemi salutare il sindaco di Treviso, che si è allontanato e tornerà, Mario, per averci accolto, per la sua accoglienza nella sua città. Fatemi ringraziare i ministri e i parlamentari che ci saranno domani, il ministro dello Sport e delle politiche giovanili, Andrea, per tanti di noi, sempre vicino ai sindaci, agli amministratori locali, già prima di diventare ministro, è sempre stato vicino alle stanze dei comuni, degli amministratori locali. Io lo ricordavo prima, quando siamo arrivati, ho potuto rifare lo stadio, grazie al suo intervento, a una collaborazione che ho fatto con l'ente, che ha rappresentato fino a qualche mese fa. Permettetemi un saluto caroloso, ma forse meglio un abbraccio, un abbraccio al Presidente, al coordinatore dell'Anci Giovani, a Luca Baroncini, che insieme alla squadra dei giovani amministratori di Anci ha organizzato questo momento importante di confronto. Lo ringrazio per il ruolo, per come lo svolge, per la sua attività, perché quando si ha un ruolo di rappresentanza bisogna avere anche il coraggio e la forza di battere i pugni all'interno dell'Associazione per dare più spazio ai giovani e il coraggio e la forza di battere i pugni anche nei confronti del Governo, anche quando il Governo è amico, quando è capitato a me, perché solo quando riusciamo a battere i pugni, a chiedere più attenzione da parte del Governo nei confronti degli enti locali, riusciamo ad ottenere dei risultati, come è accaduto in questi giorni con il Ministro delle politiche giovanili e come è successo anche a noi nel passato. Io non dimentico un giorno di essere stato messo sotto accusa da due Ministri del mio partito e il Segretario nazionale. Mi chiusero in una stanza e si lamentavano del fatto che pubblicamente avevo attaccato quel Governo che non rispondeva alle istanze degli enti locali. Io dissi io devo rispondere non al mio partito, rispondo ai cittadini e rispondo ai sindaci che mi hanno eletto. E qualcuno dell'Anci sa che siccome continuavano, io a un certo punto dissi sapete quanti segretari di partito e quanti Ministri ho visto passare? Siete sicuri che sarete ancora il Segretario del partito e Ministri del mio partito? Io continuerò a fare il Sindaco sicuramente. Io faccio ancora il Sindaco, loro non sono né il Segretario di partito e né il Ministro. Voglio ringraziare anche Roberto che non vedo, il coordinatore dell'Anci regionale. Dove sta? Sta qua. Guarda, fatti vedere. L'attività istituzionale lo ha praticamente imbalsamato, cioè è vestito, inamidato, ha un cappello perfetto. Lo stiamo programmando per fare il Presidente della Repubblica. Hai lo stesso atteggiamento di Mattarella ormai nell'impostazione istituzionale. Vi voglio dire grazie per gli spunti interessanti di questa prima parte della giornata, degli spunti che arriveranno dopo, gli spunti di domani nei dibattiti con i parlamentari, con i Ministri. È un bagaglio prezioso che mettiamo a disposizione dell'Associazione Nazionale dei Comuni, che alimenterà il dibattito anche nei prossimi giorni. È un bagaglio prezioso che ognuno di noi porterà con sé, tornando all'interno della propria città. È importante per me essere qui, come cerco di fare, un po' perché mi avete portato fortuna. Ricordo che la prima volta che ho rappresentato da Vicepresidente il Presidente Fassino era a Trieste. Ho rappresentato lui a Lanci Giovani quell'anno e poi sono diventato Presidente del Lanci Nazionale. Ma ci tenevo a essere qui con voi perché volevo guardarvi negli occhi e riconoscere anche nei vostri volti la speranza dei nostri comuni, la speranza del nostro Paese. Volevo ascoltare sicuramente le istanze, ma soprattutto le idee di una generazione che ha tanto da insegnare, una generazione che forse per la prima volta ha avuto la possibilità di formarsi all'estero, la prima a cavallo di due secoli e la prima generazione anche di sindaci e di amministratori di un'Italia che può dirsi finalmente europea. Ecco, io credo che a questo slogan e a queste parole che avete scelto, Luca, siamo l'Italia, ne aggiungerei un'altra, aggiungerei moderna. Siamo l'Italia moderna. Voi in particolare siete l'Italia moderna. Siete quei pontieri tra quelli che come me sono nati dalle macerie della Prima Repubblica, e quei partiti che in quel periodo, i partiti tradizionali, erano travolti dagli scandali, travolti da mani pulite. E invece la generazione dei millennials, la vostra generazione, che non hanno avuto una tessera di partito in tasca, usano i social, le piazze virtuali, anche per portare avanti delle istanze che non sono soltanto delle istanze locali, sono delle istanze che sono su scala globale. Io non appartengo più a quella generazione. Sono diventato grande nel frattempo. Oggi riflettevo con Mario Conte, prima di venire qui, sul fatto che non siamo nemmeno boomers, come mi chiama mia figlia. L'altro giorno mi ha detto, papà, sei un boomers, quando sono tornato a casa. Non capivo perché mi stava chiamando così. Avevo fatto una fotografia davanti al mare, avevo scritto, c'è sto mare fuori, no? Ricordando una serie televisiva, mi ha detto sei un boomers. Ho capito oggi da Mario Conte che io in realtà dovrei essere generazione X, no? Sono degli anni 70, quindi non dovrei essere boomers. E credo che invece i giovani come voi abbiano oggi il compito di interpretare la storia del nostro Paese, avendo anche la forza di chi il futuro lo può cambiare, perché la forza in politica è anche legata all'età, per tanti motivi. Io ieri ho partecipato a un incontro sulla zona traffico limitato e a un dibattito col Procuratore della Repubblica, con il Presidente dell'Associazione Libera, che anche nella mia città è un parico, come Don Ciotti. Abbiamo discusso di criminalità organizzata. Mi sono ricordato di quando ho iniziato, 18-19 anni fa, facevo l'assessore al traffico e ero stato minacciato fisicamente, perché per la prima volta avevo chiuso il centro storico della mia città, con i pilomat, le telecamere. Oggi sembra un patrimonio comune, soprattutto a quelli della vostra età. All'epoca, 18 anni fa, vi assicuro che mi sono salvato, solo perché l'Assemblea con i cittadini del centro storico l'ho fatta alla presenza del parroco della cattedrale e del priore della Basilica di San Nicola. Quando sono entrato ho detto, oh, se mi ammazzate almeno avrò il funerale più importante della mia città, visto che ci sono le due autorità religiose più importanti della città di Bari. Così come quando affrontavo i criminali, oggi lo faccio con molta più attenzione, vado in questura attraverso il Prefetto, attraverso il Procuratore Capo a fare le denunce. All'epoca, quando avevo la vostra età, avevo anche l'impulso, sentivo il fuoco dentro. E un giorno, l'ho raccontato ieri a quell'Assemblea, un giorno mi avevano fatto trovare dei proiettili vicino il quadro elettrico di un impianto di videosorveglianza. Stavamo regalando il comune, metteva a disposizione un finanziamento per i box del mercato, dove facevano le estorsioni, loro montavano le telecamere, le pagava il comune. Davanti al quadro ci fecero trovare, ruppero le telecamere che stavamo montando il quadro, e ci fecero trovare dei proiettili. Bene, avevo la vostra età e quindi avevo la vostra forza. Oggi non lo farei più. Presi quei proiettili, c'è ancora un video su YouTube che gira, e alla fine ho detto, questi somigliano a delle supposte. Sapete dove ve li potete mettere. Oggi non lo faccio più, però ho voluto raccontare questi due aneddoti, di due cose che sono successe ieri nella mia città, a testimonianza del fatto che l'età, la giovane età, porta anche la forza, l'impulso, la spensieratezza, il coraggio di fare alcune azioni, anche nella politica, che magari quando diventi più grande perdi quello smalto e magari diventi più riflessivo, e quelle cose non le fai più. Il periodo che stiamo vivendo è un periodo complicato. Entriamo in una fase moderna, ho voluto usare l'aggettivo moderna. Nella storiografia l'aggettivo moderna viene utilizzato per identificare, pensate, un periodo di transizione, che in realtà è un periodo che stiamo vivendo anche noi, sentiamo parlare ogni giorno di transizione, siamo gli attori della transizione. Moderna, se andate su internet, lo trovate come aggettivo per identificare l'età di transizione dal Medioevo all'era contemporanea, quindi quel passaggio tra la scoperta dell'America e la Rivoluzione Francese. Quel periodo viene associato a che cosa? Al coraggio della scoperta, all'apertura di nuovi orizzonti, dello spazio conosciuto verso un mondo nuovo, alla rifioritura del rinascimento, quello italiano e quello europeo. Un periodo di transizione che ha segnato la nascita di un'età nuova, il periodo che ha segnato anche la nascita di un nuovo potere, quello cittadino, il potere dei comuni, nasce in quel periodo che si autodeterminò in contrapposizione al potere feudale. Quello è un periodo che portava con sé una nuova stagione di consapevolezza, di nuovi diritti, quelli indicati in quella che considero una sorta di monumento di libertà e di giustizia che è stata la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Così dice il primo articolo di quella dichiarazione che è stata approvata oltre due secoli fa. Io credo sia ancora di straordinaria attualità, se è vero come è vero, che ci sono ancora donne ridotte in schiavitù nel mondo a cui viene negata addirittura la formazione, se ci sono donne, uomini, bambini che scappano dai loro paesi e noi abbiamo il dovere di accoglierli e se ci sono situazioni in cui bambini non hanno diritti. Lo voglio affrontare questo tema proprio perché sono in un comune dove il sindaco si comporta come mi comporto io. Mario Conte è un sindaco della Lega e vive a Treviso, al nord. Io sono un sindaco del Partito Democratico, iscritto al Partito Democratico, che vive a Bari. Ora, indipendentemente da come ognuno di noi la pensa, perché ci sono temi su cui ci sono sensibilità diverse, ci sono temi legati all'etica, io credo che i diritti dei bambini siano diritti fondamentali per chi fa il sindaco, per chi fa l'amministratore. E lo voglio dire soprattutto a voi, amministratori, perché siete amministratori giovani. Ci sono dei diritti dei bambini, indipendentemente da, davvero, ognuno di noi la può pensare. Io ho incontrato qualche giorno fa due donne che mi hanno spiegato, le chiamerò con due nomi di fantasia, mi hanno spiegato che cosa gli è successo. Uno si chiama, diciamo, Maria e l'altro Giovanna. Forse è meglio che cambiamo, chiamiamole Nicoletta e Giovanna, che se li metto in sé, Maria e Giovanna, ce ne andiamo su un altro tema, che è quello della marijuana, che magari lasciamo da parte. Diciamo, Nicoletta e Giovanna. Giovanna è la madre biologica, Nicoletta è unita civilmente a Giovanna. Il tema che, siccome hanno fatto una fecondazione assistita, l'hanno fatta fuori dall'Italia, il bambino Nicolò è nato invece in città, c'è il tema legato al fatto che per legge non si può fare la registrazione. Però a quel bambino mancano dei diritti. Cioè, da un lato Giovanna risulta la mamma, però non può prendere tutti i congedi parentali perché risulta all'anagrafe unita civilmente con Nicoletta e quindi gliele danno la metà. Nicoletta non è la mamma e quindi non si può prendere l'altra metà dei congedi parentali. Nicoletta, fermata nella macchina col bambino, ha dovuto spiegare dalle fotografie che comunque, diciamo, è il figlio della persona con cui è unita civilmente. Se Giovanna dovesse succedergli qualcosa, Nicoletta non ha nessun potere sul bambino e Giovanna, cioè i genitori che del bambino non ne vogliono sapere perché i genitori di Giovanna non volevano che Giovanna si fidanzasse e si unisse civilmente con Nicoletta. Vi ho raccontato delle piccole cose che però noi siamo amministratori, a noi ci succedono tutti i giorni. Per questo dico, ora, indipendentemente dalle nostre posizioni, almeno sui diritti delle persone, sui diritti dei bambini in particolare, io credo che noi amministratori, come abbiamo fatto tante volte, dobbiamo stare dalla stessa parte. Soprattutto voi. Voi, non voi che siete il futuro, perché quante volte ve lo siete sentiti dire, voi siete il futuro, no? Come se il vostro tempo fosse lì che deve ancora venire, come se fosse dei cittadini, ma soprattutto degli amministratori incompiuti, no? Siete il futuro. E invece, l'avete sentito dalle parole di Luca Baroncini prima, che ha detto, Luca, si è pure arrabbiato nel suo intervento. A un certo punto ha detto, come gli capita, no? battendo i pugni, ha detto, basta, siamo l'Italia oggi. E io credo sia arrivato il momento di interrompere questa spirale di ipocrisia in cui sembra che quel futuro per voi deve sempre arrivare. Voi, per i vostri concittadini, e sicuramente voi, per l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, siete i presenti. Voi siete il presente. Come ha detto Luca nel suo intervento, voi siete l'oggi, siete l'oggi, siete il destino che vi siete scelti, il destino che vi state costruendo giorno dopo giorno, con tutte le difficoltà che gli amministratori vivono quotidianamente. Voi avete il diritto di vivere questa esperienza, mettendo a disposizione di questo Paese e dei Comuni di questo Paese il vostro entusiasmo, le vostre competenze, la vostra forza, a cui ho fatto riferimento prima, perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di sindache, di sindaci, di amministratori che sono entusiasti, competenti e forti. E soprattutto sono capaci di offrire soluzioni nuove a problemi che sono antichi e che molti di noi magari non sono riusciti a risolvere. Ecco, chi meglio di voi può raccogliere le sfide di questo tempo? Chi meglio di voi può guidare l'Italia in questo periodo di transizione, che non è il futuro, è il presente, è già qui? Parliamo di transizione, transizione ecologica, transizione digitale, transizione economica, transizione sociale. Chi la può guidare questa transizione nei prossimi anni, se non voi? Una transizione che è partita, è attualità, perché quando parliamo di transizione ecologica parliamo di cittadini che comprano sempre di più le auto elettriche. Nel 2019 le auto elettriche immatricolate erano l'1,9%, adesso sono più del 10%, quindi siamo ormai entrati in una transizione ecologica, una transizione che ci sposta sull'elettrico, che ci deve far pensare, perché dobbiamo accompagnare questa transizione con delle modifiche produttive di tante aziende che magari si occupano di componentistica dell'automotive. Dobbiamo cominciare a pensare anche a delle fonti alternative, anche all'elettrico, perché forse con l'elettrico non riusciremo a reggere. C'è una transizione ecologica quando parliamo dell'efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici, quando parliamo di autobus elettrici, 3.000, guardo i sindaci dei capoluoghi di provincia e di regione, sono 3.000 gli autobus elettrici, non abbiamo nemmeno un'azienda italiana che è capace di produrre autobus elettrici, soprattutto non è capace di produrne 3.000. E poi c'è la transizione digitale, l'anagrafe gestita direttamente da casa, da un computer, dall'azienda, da uno studio professionale, non dobbiamo più andare necessariamente a chiedere la fotocopia su un foglio lucido per ottenere la destinazione urbanistica di un suolo, si può fare in maniera digitale, direttamente dalla propria azienda, dalla propria impresa, dal proprio studio professionale. E così come transizione digitale significa anche realizzare quelle infrastrutture, quella che molti chiamano la superfibra, soprattutto la rete di connessione nei piccoli comuni. Qualche giorno fa, insieme a una delegazione dell'Anci, insieme ai tecnici dell'Anci, siamo stati dal Ministro dello Sviluppo Economico, che vuole introdurre una norma che permetterà a chi vive all'estero, ma ha origini italiane, di poter tornare qui e lavorare direttamente da casa, vivendo qui con una residenza almeno sei mesi all'anno, attraverso uno sgravio fiscale del proprio stipendio. Noi abbiamo proposto di fare la stessa cosa anche all'interno del nostro Paese, cercando di ripopolare i comuni più piccoli. C'è una norma che permette a chi va in pensione e vive all'estero di tornare a popolare i comuni sotto 20.000 abitanti. Noi chiediamo di utilizzare quella norma anche per chi vuole lavorare in un comune, in un piccolo borgo, per adottare quella che noi chiamiamo l'agenda del controverso, di bloccare lo spopolamento dai piccoli comuni, perché il Covid ci ha insegnato anche questo, che si può lavorare da casa. Ci sono grandi aziende, grandi multinazionali, che permettono ai loro lavoratori di lavorare anche da casa per un periodo lungo durante l'anno. E sulla copertura della fibra ottica stiamo procedendo. Abbiamo raggiunto tra il 2020 e il 2021 una copertura del 46%, raggiungendo 16 milioni di abitazioni. In Europa solo il Regno Unito, più 65% dei Paesi Bassi, più 49% hanno corso più velocemente di noi. Dobbiamo coprire però anche quelle altre abitazioni e lo dobbiamo fare soprattutto nei comuni più piccoli per dare delle alternative. Soprattutto ai ragazzi che magari tornano nel loro comune più piccolo, perché gli viene offerta una alternativa. Ci tenevo a venire qui anche per dirvi di prendervi la responsabilità di guidare questo Paese in un tempo nuovo, anche tra mille difficoltà, inconvenze quotidiane. Siete riusciti, come Anci Giovani, a creare una rete di relazioni. E siete tantissimi. Non è facile mettere insieme tanti amministratori da tutta Italia in una giornata. Vedervi di qui con le fasce tricolori che rappresentano le vostre comunità è una bella emozione. Siete riusciti a stare insieme, anche perché stando insieme credo riuscite anche a governare la paura che attanaglia tutti gli amministratori, la paura di lasciare indietro qualcuno, la paura di non riuscire a portare tutti al traguardo, l'intento nostro di tendere la mano a chi sta più indietro per accompagnarlo al traguardo, la paura di non riuscire a risolvere tutti i problemi. Quante volte vi capita di uscire di casa come amministratori locali, sindaci, con due problemi da affrontare, te ne torni a casa, che ce ne hai altri dieci in più, e ti ricordi, tornando la sera a casa, che i due che dovevi affrontare non li hai visti nemmeno. Anche problemi che non sono di tua competenza. Quante volte vi è capitato, no? Quante volte? Io l'ho diventato sindaco da poco, a un certo punto si ferma una multipla, fiat, non le vedo più in giro. Sono passati tanti anni, sono nove anni che faccio il sindaco. Quella multipla si è fermata con le frecce, no? È scesa una persona, è venuta verso di me. Sindaco, come dobbiamo combinare il fatto mio? Ho detto, che vuoi dire? Come dobbiamo risolvere il fatto mio? E qual è il fatto tuo? Com'è? Non sai qual è il fatto mio? Ho detto, guarda, mica conosco i problemi di 320 mila abitanti. Com'è? Mi hanno bloccato la social card. Ve la ricordate la social card? E io ho detto, guarda, ma ho cominciato a dargli del tubo io. Guarda, non è una competenza mia. La social card la gestisce l'IPS. Aspetta, è sera, gli uffici sono chiusi, fammi chiamare il responsabile dei servizi sociali del comune. L'ho chiamata e ho detto, Anna Rita, scusa, mi spieghi che cosa possiamo fare? Mi ha detto, Sindaco, la gestisce l'IPS, chissà perché gliel'hanno bloccata. Comunque, mandalo domani mattina nel municipio, fallo parlare con un assistente sociale, di dichiamarmi e cerchiamo di risolvere, di metterci in contatto con l'IPS. L'ho guardato e gli ho detto, di che quartiere sei? Qui, del quartiere Libertà, devi andare dall'assistente sociale domani al municipio. Mi guarda e fa del quartiere Libertà. Io mica so di Bari, oh, io so di Modugno, era di un altro comune. A testimonianza del fatto che tu ti porti a casa anche dei problemi che non sono i tuoi per competenza, ma non sono i tuoi nemmeno per competenza amministrativa, cioè nel senso che sono anche fuori. Il cittadino, quando vede una figura istituzionale, giustamente cerca di avere delle risposte, anche se non è la figura istituzionale di diretto riferimento. Questo succede. E questo succede a voi, amministratori e sindaci. Non succede a tutti. Siamo in un periodo in cui ci sono tanti cambiamenti. Il Covid, la guerra, la crisi post-pandemica, le città sono cambiate. Guardate, sembra passato un secolo, invece è successo è successo velocemente ed è successo qualche mese fa. Vi voglio leggere una cosa che mi ha scritto poco tempo fa, lo stavo guardando mentre stavo con voi. Questo è il direttore dell'azienda sanitaria locale del mio comune. Mi ha scritto Ciao sindaco, con oggi possiamo concludere la diffusione del report Covid visti i numeri bassi e stabili da noi come nel resto d'Italia ormai da tanto tempo. Ovviamente il monitoraggio dei casi all'interno dell'ASD ci sarà sempre. Sono state 105 edizioni settimanali in interrotte che adesso possiamo finalmente sospendere. Io gli ho risposto grazie per quello che avete fatto. Meno male siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Abbiamo perso tante persone. Sembra passato un secolo. Stiamo parlando di altre cose oggi. Eppure qui c'è Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo. Abbiamo passato il periodo più brutto della storia dell'umanità probabilmente. E sembra passato grazie a tutti. Ora ci aspettano delle nuove sfide. Prima Gianluca Semprini mi ha voluto stimolare sulla questione del PNRR. Perché questi giorni se aprite i giornali o accendete le televisioni stranamente vengono due notizie. Una che dice che il PNRR è necessario per colpa dei comuni e l'altra notizia è che i comuni del Sud sono più in difficoltà rispetto agli altri comuni. Allora non c'è nessuna statistica. Sui comuni in particolare non si può dire che siamo in ritardo perché non abbiamo ancora cominciato nel senso che ci dovevano avere delle risorse e ci hanno detto ma i comuni non ce la faranno mai a partecipare ai bandi perché non hanno il personale e non hanno le risorse umane e le risorse economiche per magari prendere dei consulenti. Quindi non parteciperanno ai bandi. Che cosa li fate a fare? Bene. I comuni su 40 miliardi di euro hanno presentato progetti per 80 miliardi di euro. Quindi abbiamo partecipato. E la partecipazione non l'abbiamo fatta ieri l'abbiamo chiusa a maggio dell'anno scorso e quindi le risorse sono arrivate diciamo nel periodo tra l'estate e l'autunno dell'anno scorso. L'autunno dell'anno scorso abbiamo fatto un convegno e abbiamo detto le risorse sono arrivate perché il governo ci ha ascoltato ci ha dato la possibilità di semplificare le assegnazioni. Vedo ancora io non voglio far polemica rispetto alle istituzioni però sentire sempre le regioni che dicono se aveste dato i soldi a noi i comuni non stavano in difficoltà ma i soldi per gli asili nido per la rigenerazione urbana i soldi per le periferie mica sono soldi che spendono le regioni le regioni per quelle risorse hanno solo fanno un'attività di intermediazione cioè ricevono i soldi dallo Stato e fanno i bandi e noi avevamo chiesto solo di far saltare i bandi mica abbiamo detto alle regioni non dovete far nulla hanno partecipato in conferenza unificata a stabilire le percentuali il 40% al sud poi per le regioni a seconda della tipologia di attività per esempio penso agli asili nido abbiamo messo dentro il 40% al sud le regioni ognuna di loro si è espressa per la percentuale che hanno concordato loro e dato al ministero per ciascuna regione poi abbiamo usato il criterio della crescita demografica se non nascono i bambini che te li do a fare i soldi per gli asili nido poi abbiamo fatto il calcolo sulla base del numero dei bambini tra 0 e 3 anni in rapporto al numero dei posti di asilo nido perché se tu c'hai un numero di posti elevato rispetto al numero dei bambini non diamo i soldi a te li diamo a uno a un comune che ha meno posti a disposizione rispetto ai bambini tra 0 e 3 anni in questa maniera i soldi sono arrivati in tre mesi c'è una legge di bilancio di tre anni fa che dava i soldi agli asili nido passando dalle regioni non faccio i nomi delle regioni per correttezza istituzionale ma ci sono due regioni che dopo tre anni nonostante il commissariamento ancora non hanno dato i soldi ai comuni poteva funzionare così non poteva funzionare non è che abbiamo chiesto al governo di scavalcare le regioni abbiamo soltanto detto troviamo un modo per far partecipare le regioni però senza fare i bandi perché se no il bando il ricorso perdiamo tempo le risorse le abbiamo avute le riusciamo a spendere nel 2026? secondo me no per come stiamo messi e adesso e adesso c'è il tema legato alle semplificazioni perché adesso potremmo capire se siamo in ritardo devo dire l'interlocuzione col governo è positiva con quelli precedenti anche con questo il ministro Fitto sarà anche per vicinanza territoriale perché è di Lecce io sono di Bari lo sento quasi ogni giorno abbiamo risolto alcuni problemi però mi appello al Parlamento lo dico davanti al ministro la semplificazione che è stata fatta è una semplificazione importante però a blocchi cioè viene semplificata la procedura per il parere della sovrintendenza viene semplificata la procedura per la valutazione del patto ambientale viene semplificata la procedura per ottenere il parere paesaggistico però sono singole procedure semplificate che si sommano e ci fanno perdere un sacco di tempo noi vogliamo un'unica procedura dove si esprimono tutti gli attori tutte le articolazioni dello Stato della Regione dei Comuni con dei tempi prefissati tra l'altro non è che ci stiamo inventando una cosa nuova è una norma che esiste che non abbiamo mai capito perché il precedente governo è pure questo che l'ha replicata questa norma l'ha fatta per l'edilizia scolastica cioè per l'edilizia scolastica c'è una procedura semplificata unica e per tutte le altre opere pubbliche le semplificazioni sono a slot e poi un'altra cosa che chiediamo i dipendenti dite tutti tutti anche il governo i dipendenti dei Comuni sono pochi allora siccome sono sempre le stesse persone abbiamo semplificato le opere pubbliche finanziate dal PNRR finanziamo anche le altre opere pubbliche finanziate con altre fonti di finanziamento perché per fortuna viva Dio i Comuni mica spendono solo i soldi del PNRR abbiamo bilanci nostri abbiamo soldi dalle regioni soldi dall'Europa soldi dalle leggi di bilanci dello Stato e siccome un asilo nido o è finanziato dal PNRR o è finanziato dal bilancio dello Stato è sempre un asilo nido e le persone che ci lavorano sono sempre le stesse non è che quando è finanziato dal PNRR il geometra del Comune ha la procedura semplificata e poi sull'altra procedura gli lasciamo quella più complicata e gli facciamo perdere tempo semplifichiamo tutto fino al 2026 e poi magari torniamo alle vecchie regole però semplifichiamole anche per le nuove opere pubbliche così come per le assunzioni tutti dicono eh ma è difficile trovare i dipendenti eh ma certo che è difficile perché se tu hai quelle persone che devono partecipare a un concorso che ricordo sono ingegneri architetti avvocati perché dobbiamo progettare dirigere i lavori firmare i contratti fare gli espropri quindi ci vogliono figure professionali importanti se li dici ti assumo fino al 2026 ma un professionista cioè facevo l'ingegnere pure io se io a quell'età quando ho iniziato a lavorare sapevo di partecipare a un concorso che poi dopo tre anni mi devo andare a casa io mi faccio un altro percorso professionale di vita cerco una strada da qualche altra parte ora noi non è che vogliamo stabilizzare tutti quelli che verrebbero fino al 2026 per il PNRR noi diciamo se quelle persone servono al comune nell'ambito dei miei spazi assunzionali perché se ne va in pensione un architetto un ingegnere e un avvocato perché non posso prendere l'ingegnere l'architetto e l'avvocato che sono arrivati primi in quelle graduatorie e mi dovete far fare un altro concorso che derurà un altro prendere una persona che devo formare di nuovo e soprattutto togliamo la possibilità a quelli di partecipare queste cose semplici noi chiediamo al governo e adesso al Parlamento in sede di conversione della norma perché noi i tempi li abbiamo rispettati fino ad oggi e siamo non lo dico io lo dicono le statistiche il maggiore investitore del paese il 25% delle risorse per opere pubbliche le spendono i comuni le spendono e non lo dico io non c'è una statistica in questo caso del lanci c'è una statistica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2019 e una statistica del 2020 della Corte dei Conti che dicono che siamo l'investitore pubblico più importante quindi anche senza personale anche senza risorse per consulenza esterna e comunque il nostro lavoro l'abbiamo fatto e credo di aver risposto alla sollecitazione che mi ha fatto Semprini e non andrò avanti con le esempi ci sono tanti problemi diciamo rispetto a quelli che vi ho elencato ci sono dei casi che sono paradossali tipo chi è stato più bravo degli altri a finire il progetto prima dell'introduzione del decreto che ci permetteva di aumentare i costi direttamente perché sono aumentati i costi di poter fare le perizie di varianti chi è stato bravo e ha finito prima non può utilizzare quelle risorse chi aveva aderito per esempio al Pinqua o chi doveva fare gli asili nido ci hanno messo cinque mesi per farci firmare una convenzione con 28 quanti di voi non l'hanno firmata per paura perché a maggio dovremmo indicare la ditta che ha vinto la gara se un ministero ci mette cinque mesi per una convenzione noi come facciamo in un mese e mezzo ad aggiudicare una gara non mi dilungherò però questi sono i rischi che abbiamo ripeto rispetto a una situazione in cui il governo per fortuna ci ascolta perché ci hanno promesso che nei prossimi giorni nella conversione in legge di quel decreto introdurranno alcune norme una mi sembra di aver capito è proprio quella della stabilizzazione del personale con le nostre risorse io queste cose non ve le ho dette per spaventarvi anche perché come mi capita di dire sempre il fare il sindaco fare l'amministratore locale è il mestiere più bello del mondo è vero che devi cercare il consenso dei tuoi elettori non stai in un listino bloccato quindi non ti salva nessuno se non sei bravo ad amministrare però è il mestiere più bello del mondo con tutte le responsabilità con la paura della firma se firmi ho sentito un intervento prima rispetto alle responsabilità ci sono atti che se li firmi ti accusano di abuso di ufficio se non lo firmi lo stesso atto rischi l'omissione d'atti d'ufficio queste cose però le dico solo perché sappiamo che abbiamo delle responsabilità però fare l'amministratore locale è ancora il mestiere più bello del mondo perché noi viviamo i problemi e le difficoltà dei nostri concittadini però abbiamo l'onore di vivere le emozioni anche le gioie dei nostri concittadini i loro sogni le loro aspirazioni e quindi a voi l'onore e l'onere di continuare a credere in queste emozioni che viviamo come amministratori locali e in questo sogno che noi chiamiamo Italia a voi il coraggio di non rinunciare mai alla inconscienza alla spregiudicatezza e anche alla passione che ci mettete in questa missione che avete intrapreso a voi il compito di provarci magari di sbagliare e di continuare a provarci perché come diceva una canzone di quelli della mia generazione Nino non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore un giocatore lo vedi dal coraggio dall'altruismo e dalla fantasia e allora come Nino anche voi non abbiate paura di tirare quel calcio di rigore perché siete la squadra migliore che questo paese possa meritare noi come c'è scritto lì siamo l'Italia buon lavoro a tutti noi e viva l'Italia dei Comuni